Vi ho chiesto di farmi alcune domande sui miei social, tra cui Instagram e Twitter, ovviamente i link li trovate qua sotto in descrizione, per un nuovo Fact Time, e le risposte sono state tantissime, talmente tante che forse devo farci due video, non soltanto uno. E quindi, ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone, questo è un nuovo Fact Time, e ne ho approfittato per staccare un po' dai soliti argomenti, tra cui iPhone X, Note 8, e infatti tutte le domande sono state su iPhone X e Note 8 praticamente. Iniziamo subito con le domande, e solo se prima vi siete ricordati anche voi di iscrivervi al canale, qua sotto premete il tastino iscriviti, perché al raggiungimento dei 40.000 iscritti vedrete un qualcosa di molto particolare sul canale, visto che tanti ancora non l'hanno fatto, premete l'iscrizione qua sotto al canale perché mancano meno di 500 iscritti ai 40.000. Detto questo, iniziamo subito con le domande. Partiamo da Persi, che mi fa una domanda che recita così. Cosa farei all'università e cosa spero di fare al termine dei tuoi studi? Grazie mille per la domanda, beh, intanto farò ingegneria elettrica, elettronica e informatica qua a Cagliari. E cosa spero di fare dopo? Beh, spero di lavorare dopo aver finito l'università, onestamente, ma come credo tutti. Prossima domanda me la fa Born to be Bay, credo, Beyoncé, non lo so. Acquisterai mai un Huawei? Se sì, perché continua cosissimo. Grazie mille. Piccola parentesi, tutti quanti mi hanno, tra virgolette, criticato perché io non dico Huawei, ma dico Huawei. Ma in effetti, nelle presentazioni dei Huawei, tutti i presentatori lo pronunciano così, quindi anche io lo pronuncio così. Ma non credo che sia così tanto un problema, però, vabbè. Comunque, acquisteresti mai un Huawei? Sì, lo avevo anche già acquistato, io ero possessore di un P7 a tempo, ed era fantastico, e sì, lo riacquisterei. Peccato purtroppo che con la serie P10 non mi abbiano convinto per nulla. Sam, invece, mi fa un'altra domanda non relativa alla tecnologia e mi chiede, qual è la tua più grande passione, oltre a YouTube? Vabbè, moltissimi di voi lo sapranno già, io canto già da tantissimi anni. E per tutti quelli che mi chiedono quando mi sentiranno cantare, al raggiungimento di 50... Io l'avevo già detto, però al raggiungimento di 50.000 iscritti vedrete una mia cover sul canale. Io ve l'ho detto, ai 50.000 uscirà quella dannatissima cover, però non prima, perché è una cosa che vi dovete guadagnare. No, vabbè, sembra molto mafiosa questa cosa, però no. Ma la domanda alla quale volevo rispondere subito me la fa Alex. E mi chiede, Ask Simone, meglio Note 8, iPhone 8 Plus o iPhone X? E poi voglio rispondere anche a un'altra domanda che in tantissimi mi avete fatto, ma che racchiudo in una sola. Comprerai Note 8 o iPhone X? Bene, allora, la risposta è semplicissima. Io ho provato il Note 8 in anteprima, voi lo saprete, al Samsung District di Milano, in anteprima proprio esclusivissima. Quindi ancora ringrazio ancora una volta Samsung, perché davvero, se non ce l'avesse l'ho fatto provare prima, sarebbe stato un delirio. Sto aspettando con impazienza di provare anche iPhone X per scegliere che cosa comprare. Perché lo sapete, io alla fine dell'anno quasi sempre cambio smartphone, perché ho l'opzione con la 3 dopo 12 mesi di poter cambiare smartphone. Quest'anno non avrò dubbi. L'anno scorso, invece, prima di prendere il 7 Plus, avevo un bel po' di dubbi se prendere l'S7 Edge, se prendere HTC 10. Alla fine, ovviamente, ho optato per 7 Plus, per il semplice motivo che con iPhone io riesco a muovermi meglio, anche per YouTube, per gestire il canale, perché le applicazioni sono fatte meglio, proprio per la gestione del canale, penso a Creative Studio, penso a Google Analytics, sono, secondo me, fatte meglio. E infatti riesco ad essere sempre molto più produttivo quando ho il mio iPhone, addirittura riesco a modificare schede, schede finali, commenti, tutto quanto dal mio iPhone senza neanche accendere il computer, cosa che da Android è un po' più complicata, se non abbastanza più complicata. E quest'anno è più o meno lo stesso, perché io avrei la possibilità di prendere anche Note 8, ma non mi ha convinto più di tanto, sia per il sensore d'impronte, sia per lo sblocco, con le iridi che non è troppo veloce, e visto che lo sblocco facciale non è per niente sicuro, poi lo trovo leggermente troppo ingombrante, e onestamente io, dopo essere stato utilizzatore di Note dal Note 2, Note 3, Note 4, mi sono reso conto che la S Pen ormai a me non serve più tanto. Quindi sì, probabilmente prenderò iPhone X, ma non lo terrò. Molto probabile che, infatti, lo prenderò dall'Apple Store semplicemente per provarlo, e forse neanche cambiare il mio smartphone, perché in effetti mi trovo talmente tanto bene ancora col mio 7 Plus, che non trovo alcun motivo per doverlo cambiare, se non per l'iPhone X, ma siccome il prezzo dell'iPhone X è molto alto, è molto probabile che anche con l'offerta, appunto, di cambiarlo dopo 12 mesi, mi faranno pagare al minimo 400 euro per prendere il nuovo. Quindi, onestamente, non so se ne vale la pena. Io lo proverò e deciderò. Per ora, comunque, sappiate che è molto probabile che terrò addirittura il 7 Plus, se non lo dovessi tenere. Prenderei iPhone X. Albi, invece, mi fa un'altra domanda, sempre relativa ad iPhone, tanto per cambiare argomento ogni tanto. Ciao Simo, Simo Grande, mi saluti in un prossimo video, grazie in anticipo, ciao Albi. Mi converrebbe scambiare il mio iPhone 7 e aggiungere dei soldi per prendere l'8 o no? PS, sono un utente medio, non ne faccio un uso estremo dei dispositivi, ma mi piaceva particolarmente il design di iPhone 8. Onestamente no, non ti conviene assolutamente, ma proprio nella maniera più assoluta, infatti, neanche io, che sono un malato di queste cose, lo comprerei mai, pur avendo, appunto, un iPhone 7 Plus. Non farei mai il salto all'8 Plus, perché davvero è talmente tanto uguale che non ne vale la pena. Credo che sia il primo iPhone da un casino di tempo che non va sold out dopo il primo giorno di preordini. Milan a 360 gradi, sì, il tuo nickname è questo, quindi mi spiace per tutti quelli che non ti fanno Milan, farai anche quest'anno i voti ai telefoni con vari premi? Assolutamente sì, e addirittura vi posso già anticipare che ho pensato a qualcosa di molto speciale quest'anno, visto che probabilmente continuando così potremmo già essere a circa 50.000, se non di più, già alla fine dell'anno. Cioè, in verità, continuando così saremmo tipo a 60-70.000, quando sarà la fine dell'anno, se riusciamo a continuare davvero così con gli iscritti. Però, comunque, ho pensato a qualcosa di davvero particolare, perché quest'anno, secondo me, sarà davvero interessante fare una classifica di smartphone, no? Come l'anno scorso, che erano più o meno tutti quanti il rebrand di smartphone passati. Luca mi fa una domanda, invece, molto interessante. Secondo te vale la pena comprare le nuove Airpods e il nuovo Apple Watch, dato che le cuffiette hanno una piccola modifica e quella più importante dell'orologio non sarà usufruibile in Italia? Tu li comprerai, sei grande Simone, grazie mille. Io no, non comprerò né l'uno né l'altro. Per il semplice motivo che le Airpods, purtroppo, non le riesco ad usare, perché non mi entrano bene nell'orecchio, proprio è un mio difetto, ok? Non perché non mi piacciono, ma perché proprio non le potrei utilizzare. E anche perché non me ne faccio troppo. Mentre invece il nuovo Apple Watch, ottenuto non me lo vedete al polso perché adesso sta aggiornando a WatchOS 4 ed è lento come non so che cosa ad aggiornarsi, non lo comprerò perché non ne vedo la necessità. Quando l'ho visto nella presentazione, ho tirato un sospiro di sollievo incredibile perché ho detto Ah, meno male, non devo spendere soldi per cambiarmi l'Apple Watch, perché non ne vale assolutamente la pena. Secondo me la cosa più giusta da fare adesso è prendere un Apple Watch Serie 1 come il mio. E questo nickname, non aiuto, MHTW17, mi chiede, Fuck Time, che ne pensi di Xiaomi? Allora, a me ha fatto impazzire il Mi Mix, l'ho tenuto per circa tre mesi, più o meno, avete visto tantissimi video sul canale sul Mi Mix. Sto aspettando con impazienza il Mi Mix 2, mi dovrebbe arrivare per provarlo, speriamo. Purtroppo però sono talmente tanti e talmente tanto uguali. È lo Xiaomi A1, è il 5A, è il 3 Note, è il Redmi 3 Pro, cioè aiuto, sono un casino. E soprattutto sono uno uguale all'altro. Cioè, io guardo semplicemente oramai quelli che costano tanto e quelli che costano pochissimo. Quelli di mezzo li prendo e li tolgo tutti quanti. Chiudo con questa domanda. Matteo mi chiede, quale parte reputi più importante in un video? Io ritengo molto importante la qualità audio, ma soprattutto la fruibilità dei contenuti. Molti si lamentano del fatto che io non stia più facendo video in 4K pur avendo la GH4, ma li stia facendo in Full HD a 60 frame. Io mi sono reso conto che soltanto il 5 o 10% della mia utenza guardava video in 4K. E invece moltissimi possono guardare video a 60 frame. E siccome la differenza di qualità sul 1080 non c'è, anzi, mi dà la possibilità di ampliare il campo visivo, preferisco a questo punto registrare il 1080 e soprattutto a 60 frame, perché così posso fare le cose fluide e fluide. E poi un'altra cosa, molti mi dicono di cambiare inquadratura perché sono sempre troppo scuro, oppure lo sfondo è troppo scuro. Ragazzi, il mio problema è che la mia camera è minuscola. Ed è meglio che si veda almeno possibile, perché se dovessi farla vedere, davvero è brutta da vederla in video, ok? E quindi preferisco fare così perché fino a quando dovrò stare qua? Cioè io, ragazzi, ho appena aperto le braccia e sto toccando le estremità della mia camera. Quindi capiamoci, non ho così tanto spazio nel quale muovermi. Quindi è meglio che si veda almeno possibile. E onestamente a me il fatto di avere questo sfondo totalmente di un colore che posso scegliere io con i led, un effetto ombreggiato sulla parte sinistra della faccia, a me piace onestamente. Comunque, grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, se fosse così mettete un mi piace, commentate, condividete e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!